Ciao, come stai? Spero tutto bene, io sono Gabriele e questo è il canale di Outdoor, la Corsa è una medicina. Ci trovi, abbiamo un sito internet, ci trovi anche su tutti i canali social, su YouTube, dove puoi trovare anche questo video e tanti altri sulla corsa, su tutto ciò che riguarda la corsa abbastanza a 360 gradi, almeno nei limiti delle possibilità. In questa ultima settimana due persone mi hanno chiesto consiglio per un fastidio al tendine d'Achille. Entrambe le persone mi hanno chiesto va bene quello che sto per fare, entrambi mi hanno proposto due, hanno adottato, o volevano adottare due interventi diversi. Capita spesso che le persone che corrono lamentino fastidio al tendine d'Achille. Prima cosa, per capire quali strategie adottare per cercare di risolvere il problema, capire, dare un'entità, un valore, su una scala da 1 a 5 a questo male, perché è inutile preoccuparsi se il male è lieve, è inutile andare a fare geografie e cose se il male è lieve. Capire anche se è un male che viene da lontano, se noi siamo persone soggette già in passato a questo tipo di fastidio, o se è un male nuovo. Se è un male nuovo probabilmente sarà dovuto un po' di più alla nostra corsa, se è un male che viene da lontano potrebbe essere dovuto a tante altre cause. E poi appunto ecco, per capire quali soluzioni adottare, secondo me bisogna fare, io faccio sempre delle domande alle persone. Hai corso di più ultimamente, hai corso di più in salita, fai stretching, che scarpe usi e spesso cerco di vedere anche come corno. Ecco, le due persone che mi hanno chiesto consiglio, una mi ha detto posso mettere una soletta più ammortizzata e l'altra invece voleva fare tecar, più 4-5 assoluti di tecar in una settimana. Allora, la strategia di mettere la soletta ammortizzata non fa male assolutamente, ma il foco, quando uno ha male al tene di Nachille, molto probabilmente capita spesso che sia dovuto al tipo di corsa che lui fa o alla scarpa che ha, cioè una corsa troppo, con una postura troppo avanzata, come quando corriamo in salita perché a causa del pendio tendiamo a buttarci in avanti e a impattare un po' di più sul medio avampiede, punte, quel tipo di postura di corsa ci può sollecitare tutta la catena posteriore, incluso il tene di Nachille. Difficilmente la soletta ammortizzata la vedo come una soluzione al problema del tendine Nachille perché la soletta ammortizzata può intervenire per un discorso di impatto. Il male al tendine, secondo me, è dovuto più a un impatto combinato con una postura avanzata. La persona in questione poi è una persona molto leggera, sui 60 kg, quindi non penso che abbia un impatto così traumatico. Quindi la soletta ammortizzata è un aiuto generico che non va male per nulla, ma non è la soluzione, a mio avviso, al problema del tendine Nachille. L'altra persona invece voleva fare tante sedute di Tecar, la Tecar non va male. Secondo me una buona risoluzione di un problema del tendine Nachille e di tanti altri problemi è risolvere gradualmente agendo su varie leve, facendo varie cose che adesso ti consiglio, in modo da capire appena tocco un filo quanto diminuisce quel male, così da poter risalire anche alle origini del male, perché si è avuto quel male. Se io sposto 3-4 leve su cui posso agire, sento quanto diminuisce il male e quindi capisco quale di queste leve è più efficace nel risolvere il male e per il futuro questo mi sarà molto utile. Quali sono queste leve su cui posso agire? Naturalmente lo stretching per il tendine Nachille, lo stretching che poi vale per tutto, stretching specifico, la postura, dicevo prima, se ho una postura molto avanzata e o vado a correre in pista, ho una postura avanzata, ho corso molto in salita, è capitato che spesso persone che si hanno messe a fare delle salite di colpo non le avevano mai fatte e gli è venuto male al tendine Nachille. Spesso gli ex calciatori, avendo una tipo di corsa molto avanzata, hanno male al tendine Nachille. Stretching, postura, ridurre la quantità di corsa che magari mi ha infiammato, specialmente d'estate, le infiammazioni sono più favorite e vedere che drop di scarpe abbiamo. Il consiglio sulle scarpe non è di usare un certo tipo di drop specifico ma di alternare scarpe con drop diversi. Quindi magari una da 4, una da 8 per esempio, sono già due scarpe o una da 5, una da 10. Quindi queste quattro leve, stretching, postura, scarpe, alternare scarpe diverse e ridurre il carico generale. Sono quattro leve su cui agire quando ho male al tendine Nachille ma quando ho qualsiasi male non mi devo spaventare, non devo andare a fare ecografie se il male di leve è entità. Le ecografie non ci dicono qualcosa ma soprattutto fare un'ecografia non vuol dire curarsi come tanti pensano. Fare un'ecografia vuol dire fare una fotografia dello stato dell'arte ma se poi non adotto delle contromisure non guarirò. Quindi andate pure a fare ecografie se volete ma non è la soluzione. Vi da una lettura. Ma spesso non c'è niente. È già capitato anche ieri un'altra persona con un altro male sotto la pianta del piede. Tutte le ecografie del caso, strumenti tecnologici non hanno trovato quasi niente. In più lei non ha smesso di correre ma non ha adottato strategie per migliorare la sua situazione. Smettere di correre è una strategia non la più consigliata, anzi si consiglia di continuare a correre ma meno e in maniera magari più bilanciata, più alternata eccetera eccetera agendo su leve appunto come stretching cambiare le scarpe, alternare le scarpe diverse migliorare la postura di corsa e ridurre il carico generale. Queste quattro leve per qualsiasi infortunio sono sempre ottime e agendo su queste quattro leve in maniera graduale io posso capire quale ha più beneficio sul mio caso e quindi capire dove ho sbagliato e dove posso migliorare in futuro.